Ciao a tutti bentornati su Fasmofobia, oggi continuiamo con le nostre peripezie E oggi si continua, ecco, ok ho preso fotocamera, videocamera, ma ci bagnate tutto un po', oh ma che è Undertaker? Chi era lo spirito che aveva la nebbia? Oddio si, non mi ricordo, eh oggi per forza, groburi di luce nel garage ragazzi, Eccolo, groburi di luce qui, eccolo, fa conoscerlo Oh, come in Teveni, non c'è tempo si, ci fermi, ci fermi, ci fermi, ci fermi credo che se la siamo già un pochetto eh ma guarda che schifo, ha fatto un'attività da nove questo grandissimo gnotolone comunque ho fatto una foto al fantasma eh no, sono morto puh che schifoso eh, visto, visto guarda, guarda guarda, guarda dai, scusate, bravo non mi sento, non mi sento non mi sento, non mi sento non mi sento non mi sento, non mi sento non mi sento no, non mi sento come fai? hai riattaccato? no, è sembra mio nonno cos'è? scusate, a breve me ne vado ma il cazzo lo usa l'incenso mentre il fatto ha smato la caccia un giugatore ti cosa guarda? guarda guarda sta scusa ti va di parlare un po' con me? ti va di rifare il suono alla macchina? guarda quanto mi mancano i liberi occhi ma devo fare ancora le anni e fanno ah e fanno qui bla 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 oh, l'ho visto l'ho visto dozz dozz eccolo l'ho visto l'ho visto l'ho visto con dozz e ce l'ho anche in video perchè sto registrato è una riddita oddio stranded deep aspetta un attimo passami un accendino che farò no, non posso crederci che non c'è no? io sono fortissimo non ci credo ma questo è lo stesso motone di stranded deep ancora guarda qua come fa un accendino non c'è no vergogno top non c'è no non c'è no non c'è no Guarda che panzone Stavo venendo da te a fare la foto No Non vedo un po' di luce comunque Dove sei? Ecco mi hai fatto incazzare Mi hai fatto incazzare Mi lasciano Oh 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 Vedi un tavionetto? Vedi un tavionetto? Vedi un tavionetto? Che cazzo? Qua c***o? Qua c***o? C***o? Ma non ho finito Ha pagato Oh Ho preso il libro Con l'unica prova Libre spiritico Infine Andiamo E' lui Ma il mio Mamma ma ultimo mi vedi Potrebbe esso un moroio Ehm non lo so però ho fatto tante apparizioni io l'ho messo daimone? è daimone, si si, è daimone adesso sarà il mimo madonna cosa, madonna mia era proprio genaro sensitivo